Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki e io sono Steph e qui si giochiamo a Roblox E a grande richiesta oggi giocheremo a Clone Tycoon 2 Conosciamo benissimo il primo perché l'abbiamo giocato tanto tempo fa, anche più di una volta sinceramente E' appena uscito il secondo, ce l'avete chiesto in tantissimi, quindi oggi giocheremo proprio a questo Tycoon Non so quanti consolini ci avevano chiesto di portare sia Clone Tycoon 1 sia Clone Tycoon 2 non appena è uscito Ovviamente vi vogliamo accontentare ed eccoci qua Allora, credo che sia stato totalmente fatto nuovo, più bello, più strano Allora, io capisco non fare il primo perché l'avamo già giocato, quindi è anche giusto Del secondo infatti non ho visto nulla, come sono entrata però ho notato che è stranissimo È stato totalmente cambiato e sempre fatto dagli stessi creatori ovviamente E non so cosa aspettarmi, cioè il Tycoon è davvero molto molto particolare, cose che non abbiamo mai visto Esatto, infatti questo è dove si costruisce che è già diversissimo da solito Praticamente selezioniamo ad esempio il quartiere, qua abbiamo uno zero che premiamo e costruiamo la prima Clone Machine Allora, quindi dovrebbero uscire i tuoi cloni, guardali, guardali Aspetta che venga a vederli Che carino, guardalo andando a combattere Vedi, vedi, vedi Lì giù ci c'è già qualcuno che è mio, lo vedi perché ho messo giusto la macchina base Li vedi le altre Li metti a picchiare a casa Le altre feriti No, me lo sono E le hanno distrutti Allora, sicuramente perché i nostri cloni sono ancora molto deboli No, era tre contro uno Ti sembra valido? Perché tu devi aumentare la produzione di cloni e averne sempre di più Quelli sicuramente non il take on avanzato Seguiamolo, seguiamo il mio clone Vai Ammazza nel meno uno questa volta Vai clone di Steph Lui sa che si sta esercitando con la spada mentre cammina Sì, è bellissimo, guardalo L'hanno circondato di nuovo, poverino Fa sempre una brutta fine Ok, ok È un po' scarso, dai, va bene, va bene Stai cercando anche di difenderlo perché fa proprio pena, poverino Per la main base posso comprare Ti elenco tutte le cose che possiamo comprare Ok, perfetto Nella main base 300 dollari per i muri base Nel workgrounds 200 dollari per il wooden supports E 400 per la miner machine Quella della miniera Wow, è cara, cara, sì Ok, nella armory, ok Ce l'ha da sbloccare la prima spada Perché probabilmente faceva schifo per quello il mio clone E te l'ho detto perché poi i cloni saranno da potenziare sicuramente come il primo di clone take on Esatto Sto notando una cosa Beh, beh, chi mi sta facendo danno? Stanno litigando qua e mi stanno picchiando Ma ve ne andate? Ho notato Ma che succede i cloni che mi fanno danno? Ma stanno arrivando un sacco di cloni di altri nella nostra base Ma che succede? Ci vogliono male È un disastro, è un disastro Allora Uh, ho fatto una kill, bravissimo Ascolta un attimo Dimmi Sto notando questa barra qui a sinistra Vedi che ci sono questi minerali A cosa serviranno? Lo sai? Quale? Questa barra qui Ah, la Gems Queste barra, no, queste barre qua Che cos'è? Cioè non c'era nell'altro, nell'altro take on Quindi mi sto chiedendo Occhi di falco agisce ancora Io ti ho detto che ho sempre gli occhi di falco, noto tutto E pensa, guarda, perché, allora Io sono una persona molto modesta Quindi vorrei sottolineare questo Ok Che io da questa parte ho tutta l'asta del microfono Quindi sono riuscita a notarlo Quindi non solo occhi di falco Ma occhi di falco con i raggi X Assolutamente Perché qua io tutto lo schermo ho tappato E non ho tappato lo stesso prima di te Giusto per essere una persona molto modesta E di che colore ho le mutande? Nere Non vale Cioè le ho tutte nere Esatto Comunque Non perdiamoci con le nostre solite cose È una persona terribile Si calmi Ok Abbiamo delle decisioni da prendere Ok Allora Secondo me potenziamo Ho sparato Cosa? Non mi è capito Abbiamo delle decisioni a prendere e mi hai sparato Ho fatto spari e poi ho fatto Perché ho sparato Vabbè La porta è quella No grazie sto per qua Oppure la finestra è quella No sto per qua sto benissimo Vada vada Dicevo Che possiamo comprare O il potenziamento della durability Che dovrebbe permetterci di far sopravvivere il nostro clone più a lungo Esatto esatto Oppure le spade in acciaio Per farle Per essere Per fare più danno Io direi di comprare entrambi Ah vabbè Perché La scelta non c'era Sì perché mi sono accorto che abbiamo ammazzato un'altra persona e abbiamo i soldi per entrambi Adesso vieni a vedere Perfetto perfetto Guarda l'altra spada Steel sword La spada d'acciaio Io clicco Ok Aspetta Ok ci sono cose strane Sì Che cos'è Se clicchi In basso a sinistra La battle mode E l'attivi Ok l'ho attivata Puoi equipaggiarti con la spada e andare ad ammazzare la gente Però a me non ha funzionato Ma davvero Allora aspetta Sono in giro e ho scoperto una cosa Girozo l'anzo per tutta la mappa Allora vediamo se ne trovo un'altra Praticamente ci sono delle scatole Ok Sono molto simili alle Di estetica Quelle di Super Mario Cioè le prendete il punto di domanda Sì E se le prendi ti dà dei cash Una volta me ne ha dato 40 Un'altra volta me ne ha dato 80 Quindi suppongo che sia casuale Ok Cerca di vederle Guarda c'è una qua Vieni a prenderla Arrivo Sì vediamo quanto ti dà Sto correndo Ci devi passare sopra attraverso Quindi niente di strano Vai Scatoletta di Super Mario mia Vai Sì Quanto ti ha dato? 80 Vedi è casuale Bello Facciamo molti più soldi dei cloni così Eh sì infatti li ho visti in giro Ho detto ma cosa sarà Ed è fantastico Ovviamente è fatta apposta Perché sanno che i cloni sono scarsi No ma anche perché ti dà la possibilità Di avere più soldi Quindi se ti fai un giretto È molto più figo È pieno di costruzioni bellissime Comunque hai notato? Sì Guarda cosa tutto abbiamo attorno Lì la nave La nave Prendiamo ad esplorarla la nave Sì Una scatola una scatola Bisogna scoprire adesso Se Non riusciamo a prendere la spada E a combattere Perché siamo bagatti O perché dobbiamo costruire qualcosa Che ce le sblocca più avanti Hai provato a vedere nel Tecundi qualcun altro? Magari c'è qualche Cioè riesce a vedere Sì e mi seguiva cercando di ammazzarmi Tipo vieni qua Ok Allora c'è lui Vedi qua ha due cose per creare i due cloni Ok e ci siamo Questo è un altro clon Ma quello vola Flying clones Oh mio dio avremo i cloni che volano Epico E se noi Allora Se noi cosa? Cosa è strana Mettessimo la miner's machine Vai certo Sì una buona idea Dov'è? Dov'è? È lì Quindi qui escono i cloni che vanno a minare Credo di sì Ce ne faccia vedere uno gioco? Per favore Uscite Minatore No 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 Non funziona Non funziona L'hanno boicottato Ma non è vero Vedi Sei tu scarso dai Seguiamolo Vada Vada Mi scusi non volevo farla cadere Non volevo Ecco era un po' indeciso su dove andare Seguiamo la vita di un Steph2317 clone Guarda prende il suo piccone Guarda l'è pronto ad andare a minare Dove va? Ha un po' qualche indecisione sulla strada È un po' confuso Perché sai cos'è? È il primo clone da minatore Non sa bene dove andare Capite? È un po' spaesato Però ce la sta facendo Quanto ti dà? Ti dice quanto ti dà Per No mi sta dando proprio materiali a sinistra Ok Cioè mi ha dato due di pietra E uno di carbone Quindi mina proprio i materiali Ed ecco come infatti facciamo ad ottenerli A cosa serviranno? Perché questo ancora non lo sappiamo Mistero Non si sa Però andiamo nel tuo take one A vedere questa cosa delle armi Perché voglio togliermi sto dubbio Per capire se Guarda è pieno di scatoline Allora Raffa tutto Fai finta di niente Quando ci passi Fai finta di passare in modo casuale Capito? L'avevo mancata Ripeto Nessuno se n'è accorto Allora Ma me ne stai rupando? È una dai Una io Una tu Dai scusa Allora Dovresti solo ringraziarmi Chi vi lo hai notato E tu invece no Quindi Certo Wow Bellissimo Ok Bello 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 Sono dovuto entrare e riuscire Ma finalmente Te l'ho detto Era un bug momentaneo Che bello Adesso potremmo combattere tutti e due È una cosa fantastica Mi l'ho già ucciso Ma come? Eh c'era un tizio È perché sai qual è il problema? Sì Quando attivi la battle mod Ti arrivano addosso anche tutti i cloni Si possono mettere quelli che minano? Non lo so Tu dici che si può fare per fare soldi gratis? Non lo so No Salve Uh sì ci posso entrare Ma che carina No Che si stanno facendo il concerto Vedi che Quella ha il flauto Vieni ascoltiamo la canzone Bravi Bravi Che carina È un gruppo di sole donne Spaccano Scherzi Guarda hanno sporcato quella birra Ma 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 calcioni Ma calcioni Ma calcioni Allora qua sopra ci sono le camere Da letto Con un bel libro È proprio una taverna Ma No è carinissima Però la vorrei Nella realtà è una taverna È troppo carina Non so perché sono fissata Esistono gli hotel No Ma io voglio le taverne Stile medievale A me piace quello Vorrei essere un pirata Andare in giro anch'io con la nave Però mi arresterebbero Capito? Nah Non avrei Sarebbe tutto ok Non avrei lunga vita come pirata Lì vedo un tasto Prima di andare sulla nave Allora vediamo Cercando di capire che cos'è Che cos'è? Teleport Trattino Other side map No 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 Io vado No Io vado Vai Vai Vado Ah ok Rifallo Ah ok Da una parte all'altra della mappa Ah vabbè carina Almeno viaggi Vieni 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 Si può salire? Certo Possiamo andare anche nella nave Ma è bellissimo che si può interagire con tutta la mappa Scusi È bellissimo Capitan Jeff non l'ha invitata Scusi se ne vada Se ne vada Non è la sua barca questa Non ci provi neanche Ah dici che è quella di Jeff Certo La parcheggiata qua E allora è bruttissima Guarda Vedi che sto guidando Si sposti Le ali di signor maielino la faranno volare via Se ne vada La mia nave Oh no Pensavo di poter fare un bel bagno Invece sono caduta fuori dalla mappa Di più Che succede? Aspetta Che succede? Aspetta Che succede? Ho capito una cosa Ok Ti devi tenere Proprio Ok arrivo Arrivo così vedo tutto in diretta Cos'è questa cosa? Non lo so Come non lo sai? Però ti metto anche di un buio Ho sprecato soldi però ero troppo contento Che cos'è questa? Allora questa cosa è un Sì 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 Tu vieni qua E vendi i minerali che i tuoi minatori prendono Sì 70 70 70 Stavo cercando di essere sicuro Quindi praticamente Sì ok Ogni volta che riempiono i materiali Io vengo qua e li vendo e faccio altri soldi Carinissima Bellissima Questa cosa Bellissima Poi verrà che i due muretti che ti ho messo Sì ho visto Molto molto carini Ora ha una base bellissima Sta iniziando ad essere carina Dai non ci allarghiamo Inizia ad essere carina Che soddizia viola poverino Eh vabbè Ha mangiato qualcosa di piccante Si è abbronzato troppo e si è bruciato Capito Secondo me ha mangiato un po' peroncino Dici E sta per esplodere capito Guarda cosa mi sono messo a fare La guerra non mi piace Ho deciso di mettermi a picconare assieme ai miei cloni Ma puoi picconare pure tu Vabbè non avevamo preso i picconi In effetti sì è giusto Bellissima Allora comprando questo piccone Ok Ho messo il 20% di possibilità Di trovare un oro Ok non male Probabilmente se è così raro Allora l'oro Varrà molto Mi viene da pensare questo Lo spero Dove sei? Allora ti sto confondendo con i cloni Eccoti ecoti Rimango a fissare Sono mimetizzata Ti faccio supporto morale Su Su dai Che troviamo l'oro Non lo trovo Comunque ragazzi Questa mappa di sicuro Non la andremo a finire in questo episodio Faremo Se volete Se vi piace Quindi vediamo un attimino Views, commenti, likes Solite cose Vedremo se fare un secondo episodio Quindi niente miniserie Nel caso semplicemente un secondo video Dove termineremo tutto Perché comunque fare tutto in un solo video È impossibile Come fare più di due video Secondo me Non sarebbe l'ideale Perché secondo me Non è da miniserie Non credo che ci sarà così tanto da fare Perché alla fine penso che sì Ci sarà la base da migliorare Diventerà sicuramente fighissima Perché ci sono un sacco di cose da comprare Ma miniserie no Altrimenti penso che risulti monotono Fare più di due episodi Quindi nel caso sarebbe Un secondo episodio Per concludere il Tycoon Stai iniziando a comprare altro? Bello Uh le mura Guarda la casettina hai fatto Carina Eh volevo darti qualche Qualche cosettina in più Dai Perché comunque Dai me ne inizia a essere più carino Guarda che carino da puoi Oh wow wow Cosa sta succedendo da questa parte? Rissa Oh mio Dio arrivo Rissa Fatemi rissare anche a me Vi prego 1230 su 1500 Ci siamo Allora Vendo i minerali Ancora neanche uno di oro Non voglio dire nulla Non mi 20% farlocco Io te lo dico Non mi esprimo su questa cosa Allora Signor Maelino ha detto che gli distrugge tutte le miniere Se non ti danno subito uno di oro Guarda Lui ha minacciato E poi non sappiamo manca che serve Quindi non ti preoccupare Adesso arriverà Comunque Ma hai vista la cosa furba? Cosa? Che se sei VIP C'è il Quixel Vende veloce Altrimenti stai qua una vita Eh no Non vanno bene queste cose No 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 Ci sta costringendo ad essere dei VIP Anche perché Ma noi siamo già dei VIP Non abbiamo bisogno Cioè signor Maialino e Jeff Sono già dei VIP Nei commenti si parla solo di loro Cioè quindi Ma che cosa VIP Non capiscono Si sono sentiti profondamente Scatola Profondamente offesi per non avere l'accesso esclusivo Te lo dico Te lo dico Corri Tu stai pensando solo alle scatole Certo devo finire i soldi Ok 80 Questa è NPC Guarda c'è una davanti Guardami contro l'NPC Vai vai Ma che bellino Sembra Sembra uno di quelli che vanno nei safari Esatto Bellissimo Ok Altra scatola Quel clone mi vuole malissimo L'hai vista? Sì l'ho visto L'ho visto 100 Andiamo 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 Posso comprare finalmente la seconda produzione di cloni Perfetto Così si faranno soldi Guarda questo è un gentleman Uh salve Io non ammazzo i gentleman Salve signore Salve signore Però ti sta attaccando subito Guarda lì ci inseguono Eh vabbè perché è un po' un mafioso Capito Aiuta E affetta tutti Andiamo dai Seconda macchina dei cloni Speriamo migliori qualcosa Scusate Ma continuano a seguirti Non vi dovesse permettere Morite tutti Togliti la battle mode Guerra Non ci credo Sono morto Eh vabbè erano troppi Ti hai iniziato a seguire metà mappa Erano davvero troppi Esatto Allora Build Ok Clone quarters 1500 Sono qui pronta ad aspettare Vai Dov'è? Dov'è? Ah eccola questa Sì Bello Adesso ne facciamo due Ti dico solo che ho letto che ci sono i baby clones Uh ma che carini Quindi te piccolini Mini staff usciranno Sì e costa mille Ok E poi ci sono i crazy clones Che sono quelli che secondo me ho visto cloni che volano in mezzo alla mappa Quindi sicuramente avranno queste abilità particolari Sarà epico Epico Anche secondo me saranno proprio quelli Comunque ragazzi ci fermiamo così per questo video Aspetta che salvo che poi mi dimentico Bravo Bravo cosa è importantissimo Ok quindi ci dette voi in base a likes Ai commenti Alle views Se faremo un secondo episodio che sarà conclusivo Quindi niente serie Ma episodio conclusivo Di questa mappa Perché è impossibile finirlo in solo video Perché è davvero davvero lunghissima Ma ci vorrebbero Forse giorni Tra un episodio e l'altro Magari accumuliamo un po' di soldi Così partiamo subito comprando un sacco di roba Esatto E poi si scatenerà una guerra Che davvero Tipo Peggio delle guerre degli Avengers Proprio Brava Distruzione totale Esatto Io me ne intendo di guerre Lo so Bene che se vi piacereci così Se ci piace Aspetta un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao